Allora, dove siamo oggi? Dove vi ho portato? Oggi siamo ai Cedri, il simbolo del Libano. Il simbolo del Libano sono questi alberi millenari. Sono i nostri vecchi saggi, sono i nostri Cedri. Musica Musica Nella foresta dei Cedri non vediamo solo gli alberi, ma possiamo anche sentirli. Basta aprire questo fiore e dentro c'è la resina. Apriamo così e sentiamo, è buonissimo! Musica 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 Grazie a tutti.